litigio non sono stati chiariti. Estra ha deciso di rinviare l'operazione di quotazione in borsa riscontrate le sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari. Ne dà notizia una nota della stessa società in cui si aggiunge di aver preso la decisione con rammarico. La scelta si collega alle turbulenze che in questi giorni la borsa sta subendo a causa dell'instabilità politica. La società pertanto ha ritirato l'istanza di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. La quotazione è stata rinviata al ripresentarsi di condizioni di mercato migliori. Estra conferma, si legge sempre nella nota, la volontà di perseguire l'obiettivo della quotazione e anche in tale ottica quello della crescita come dimostrato dalle recenti acquisizioni nei settori della vendita e della distribuzione del gas.